Passiamo alla prossima notizia. Ah, ci sono le buone notizie. Ci colleghiamo subito con il nostro inviato dall'America. Sì, salve da studio. Mi trovo qui, come potete vedere, a Georgia, dove dobbiamo essere fieri di questa nuova scoperta, perché è tutta italiana. Un team di ricercatori di Milano ha scoperto questa cura, finalmente, per la nostra comunità, per la nostra pagola. La cura in cosa consiste? Beh, è semplice, noi ci abbiamo pensato a lungo, però è stato questo team di ricercatori, proprio che dopo tanta e tanta ricerca, è proprio per capire bene, insomma, come risolvere una volta per tutto questo problema, è finalmente arrivata la soluzione. Qualcuno si chiederà, insomma, qual è questa soluzione e ce l'abbiamo qui con noi. Qualcuno ha, diciamo, ha proposto una pistola, una pistola anche però, siccome in Italia, purtroppo, le pecore non ce l'hanno, queste invece ce l'hanno tutti e possiamo fare questa qua. È facile, dalla nostra ricerca risulta che questo strumento può, una volta per tutte, risolvere il problema del coronavirus. Ecco, qualcuno di voi si sta chiedendo come procedere, diciamo. Ci sono vari modi di procedere, si potrebbe, qui forse, o qui, 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 no, perché il team ha scoperto che qui forse è il punto migliore, diciamo. Però, ecco, bisogna affidarsi a mani esperte, diciamo, e se proprio non ce la fate a farlo da soli, potete recarvi nei nostri centri di cura, dove c'è l'esperto che può procedere alla cura definitiva. Ora, qualcuno mi chiede, molti si chiedono se ci sono controindicazioni a questa cosa qua, no, no, non si sente niente. Una volta che, insomma, questa procedura subentra nel, oltre la tua pelle, diciamo, si potrebbe avere qualche doloruccio, diciamo, però, però, ecco, è il prezzo giusto da pagare per risolvere una volta per tutte questo problema qua. e tu direi, come puoi tu fidarti di, ma scusami, io sono qua, sono da Georgia, e collegato con lo studio di gente per bene, che trova sempre la soluzione ai nostri problemi. Come fai a non fidarti? Guarda, c'ho il microfono, ecco, c'è il vento che mi soffia qua, mi trovo veramente a Georgia, e poi ho anche la soluzione per te, finalmente, pecora, cittadino, ed è questa. Quindi, sei felice, pecora? Finalmente è arrivata la soluzione dei tuoi problemi, e ti puoi fidare, perché noi, ecco, crediamo in una pecora sana e tutto quanto, insomma, lo dimostra questo monumento qua, no? E quindi, ecco, appunto, per quei fortunati, diciamo, che hanno una pistola, si possono sparare in testa, quello risolve subito e non c'è doloro, non c'è niente. Invece questo, diciamo, bisogna fare un harakiri, diciamo, e quindi non è... non si sa, insomma, se puoi fare da solo a pecora, quindi meglio se ti harakiri in un centro dove ci saranno degli esperti, dottori, proprio vestiti come proprio dottori, che procederanno a farti fuori, finalmente, del tutto, questo coronavirus, ragazzi. Ragazzi, questo è una... è finalmente quello che noi elite stavamo aspettando... che tu, pecora, stavi aspettando. Dopo potrai uscire, uscire da casa, in orizzontale, però, potrai uscire di casa, è già qualcosa. Quindi, che dire, è la soluzione perfetta di tutti i tuoi problemi, pecora, non ci sono... procedi, insomma, non perdiamo tempo e comincia a spargere questa buona notizia e finalmente, ecco, potrai finalmente uscire di casa. Quindi, buona fortuna, ricordatevi, fidatevi sempre degli esperti. Quindi, non fate da soli perché, insomma, è pericoloso per te se sei un bimbo e se non sei capace di capire questa tecnologia, che è una roba che i nostri esperti, dopo giorni e giorni di faticoso studio, sono riusciti ad arrivare a questa soluzione. Quindi, cerca di affidarti agli esperti e potrai uscire da questa situazione. Da Georgia, qui, con le Georgia Guidestones, linea allo studio. Grazie. Ok, ringraziamo il nostro inviato dall'America e continuiamo a stiera.